Si respira già l'atmosfera della campagna elettorale a Sant'Agata Libattiati, dove ieri nella via preliminare si è già infiammata la seduta consigliare con il duro attacco del presidente del Consiglio Comunale Salvo Mavilla nei confronti del sindaco Carmelo Galati. Partecipiamo a progetti avveneristici, ma poi la nostra viabilità è assolutamente ingestibile, ha detto ieri in aula Mavilla, che poi si è scagliato contro il primo cittadino anche sulla materia finanziaria. Adesso anche il nostro sindaco, ha detto il presidente del Consiglio, si è reso conto che ci manca il terzo revisore dei conti. A rincarare la dose in aula Roberto Luca, che è ricordato come l'attuale giunta non rispetti la parità di genere. Il clima si infiamma e nella maggioranza il solo Salvatore Romeo prova ad interrompere il Mavilla Show. Finisce quasi a margine l'approvazione all'unanimità della mozione sul baratto amministrativo.